bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi come ho detto siamo su questa serie anche se ragazzi non farò la serie perché oggi parto e quindi su questa puntata che si questa serie anche se non era una serie si chiama alla ricerca dell'ambra appunto andiamo andremo a cercare l'ambra ok ragazzi che non ho trovato dei pezzetti ve li farò vedere ragazzi qua non c'è ambra però questo vedete qua se cose gialle e covale invece questa è il resino normale ok ragazzi non li prenderò perché sennò mi si appiccicheranno le mani adesso andremo negli altri pini a vedere anche qua guardate non so se ne troveremo ragazzi da prendere però intanto io sto facendo vedere questi ok guardate qua ragazzi c'è un po di resina anche qui per terra non c'è il resino normale non vedo ambra però noi andremo a cercarla ok ragazzi ok ragazzi ragazzi qua ci sono dei piccoli pezzettini non so se lo vedete questo buco qua questo è un albero di prugno anche se sono troppo piccoli pezzi da prendere che ragazzi non ce ne sono altri quando la troverà di prendere il video qua ragazzi ce ne è molta e lo andremo a prendere da di qua che ragazzi quando la toglierla riprenderò ragazzi non sono riuscita a toglierla come ho fatto vedere ho già tolto questo che è un bel pezzetto e non andremo a cercare altre guardate qua ragazzi possiamo trovare dei pezzi molto belli di resina qua però uno è questo qua e vedete l'altro qua questo c'è finito un moscerino non so se lo vedete niente ragazzi non potrò prenderlo perché è ancora resina e ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto alziate la campanellina iscrivetevi spolliciate e ciao ciao